Francesco Arca, benvenuto a G4 Film Festival 2023. Il tema di quest'anno è indispensabili. Cosa è indispensabile nella sua vita privata e nella sua carriera? Sono tante le cose che sono indispensabili sia nella mia vita privata che nella carriera. Se devo sceglierne una, chiaramente nella vita privata dico la famiglia, assolutamente. E nel lavoro dico la perseveranza, quella è una cosa che deve essere indispensabile per il nostro lavoro, per la nostra vita lavorativa. Quando soprattutto la perseveranza l'ha aiutata maggiormente nella sua carriera? In quale circostanza lavorativa a livello di fiction, di progetti che ha fatto? Ha avuto bisogno di più perseveranza rispetto ad altri? Questa è una cosa che mi accompagna ogni giorno della mia vita. C'è bisogno di perseveranza sempre, sia all'inizio che durante, che immagino anche un domani. Perché questo è un lavoro che ti mette sempre in competizione, diciamo, con altre persone che fanno il tuo stesso lavoro. Quindi comunque devi essere perseverante, dove non arrivi devi arrivarci, almeno con i sogni all'inizio e poi concretamente dopo. E quindi la perseveranza, come vedi, è una cosa che devi sempre avere e devi continuare ad avere per il resto della tua vita. Quando invece riceve un copione, cosa maggiormente le fa dire? Ok, questo personaggio è mio, mi piace, ok, lo voglio fare? La mia gente, sono sincero. È lei che lo legge insieme a me. E diciamo, delle scelte le facciamo chiaramente insieme, come succede in ogni coppia di fatto lavorativa, come è la nostra. Però poi è lei che ha comunque un occhio più attento a questo tipo di lavoro che bisogna fare inizialmente, ovvero di immaginazione su un copione, capire se quel copione può essere giusto in quel momento, per quell'attore. E quindi poi è una scelta che va fatta chiaramente insieme. Però io mi fido molto e quindi seguo, sono un soldato fidele in quei casi. L'abbiamo vista recentemente in Resta con me, un grande successo. Cosa le ha dato soprattutto questo personaggio che le ha interpretato e cosa ci può dire sulla seconda stagione, visto che si parla del 2025? Allora, cosa mi ha dato? Mi ha dato l'opportunità di conoscere le persone che sono entrate nella mia famiglia, nel mio cuore. Mario in primis, Mario Di Leva intendo chiaramente. E quindi mi ha dato da quel punto di vista lì tantissimo umano, lavorativamente altrettanto un bagaglio incredibile perché ho avuto la fortuna di lavorare con degli attori incredibili come Antonio Milo, Laura Adriani, Maria Pia Calzone e tantissimi altri, Arturo Muselli, insomma, senza far torto agli altri che non ho nominato. Si parla della seconda serie, però è giusto perché si sta parlando e basta per adesso, quindi non c'è nessun tipo di fonte attendibile e sicura. Si parla prossimo anno di cominciare a girare la seconda serie. Ricorda chi le ha dato all'inizio della carriera un primo consiglio a un personaggio famoso, qualcuno che ha dato un consiglio particolare? Ma no, consigli particolari no. Mi ricordo la mia ex ragazza che fa questo lavoro che mi disse guarda che tanto di porta in faccia ne riceverai tantissime, apri ne sempre una in più. E' quella roba lì che poi alla fine è un po' il fuoco che ho dentro di delusione, ne continuo ad avere, ne ho avuto anche una poco tempo fa, però insomma basta avere la forza per poter ripartire, questa è la cosa più importante. La conduzione l'ha mai stuzzicata la conduzione di un programma? Ma allora stuzzicato no, cioè non mi è mai incuriosito fino in fondo, però ci sono alcuni programmi che credo siano veramente giusti, nuovi, che siano poco arcaici, poco svelti, capito? Quella roba lì un po' più giovanile, questa roba, ci sono alcuni programmi che come per esempio le Iere, te ne cito uno che è il più famoso, che hanno una conduzione che non è proprio classica lì, improntata nel maniera classica, ma che è una cosa che avviene anche sul momento, no? Quindi forse un pensierino ce lo farei. Le posso chiedere un saluto ai nostri lettori di Superguida TV? Assolutamente, un saluto a tutti i vostri, i nostri lettori. Ciao. Grazie.